Jacopo Esposito, Micellin, preparatore dei portieri, sei tornato a casa, Jacopo, finalmente all'Agnone, dopo tanto girovagare per il Molisa, alla fine sei tornato a casa e hai alle tue dipendenze i nuovi portieri dell'Agnone, ma soprattutto un grandissimo Landi. Sì, sono davvero contento di essere tornato a casa, era un sogno, si è realizzato quello di tornare a casa dopo tanto girare nelle categorie molisane, i ragazzi stanno facendo benissimo, i risultati stanno iniziando ad arrivare, è merito del mister e di tutto il gruppo che lo segue. Senti, la squadra è stata rivoluzionata, però voi come staff tecnico non siete stati toccati? Sì, questa è la cosa importante, c'è una nuova proprietà, ci sta dando fiducia, sta dando fiducia al mister, al nostro lavoro e tutto quanto lo staff e quindi c'è anche nuovi ragazzi, dei nuovi innesti, è iniziato il nostro campionato, il campionato vero e proprio dell'Agnone, è iniziato da qua. Senti, non vi siete mai fermati, avete lavorato tanto e sodo, soprattutto per prendere qualche punto, alla fine è arrivato questo bel punto. Sì, non ci siamo fermati neanche un giorno perché avevamo bisogno di mettere in carreggiata con le tattiche del mister i nuovi arrivi e iniziamo a carburare.